La filiera del tartufo e dell'artigianato è il tema del prossimo weekend a Capolona. La nostra è una terra importante per ciò che riguarda l'artigianato, la nostra è una terra che produce anche delle eccellenze come il tartufo. E attorno a questo prodotto di eccellenza che insieme all'olio e al vino rappresentano e caratterizzano il nostro territorio, sabato mattina ci sarà un convegno proprio nella sala consigliare sui temi del tartufo come risorsa economica e non solo come eccellenza gastronomica. Il pomeriggio apriremo gli stand presso il Centro Sociale Anno che abbiamo ristrutturato e quindi tutto rinnovato. Gli stand sia dell'artigianato di qualità e sia anche dei prodotti attorno alla filiera del tartufo. Parliamo di filiera del tartufo perché è tutto quello che ruota attorno a questo tipo di prodotto della nostra terra. Alla manifestazione ha aderito anche l'Associazione Tartufai delle Valli Retine che nella giornata di domenica ha realizzato la gara sociale per cani da tartufo. E se il tartufo marzuolo è davvero una risorsa eccolo allora servito nel piatto al sabato sera. Grazie a Sara Guadagnoli, componente del team femminile dell'Associazione Cuochi della provincia di Arezzo, medaglia d'oro agli internazionali d'Italia. Un appuntamento curato insieme alla Proloco Il Ponte.